benvenuti o bentornati alla serie video sul mobbing sulla violenza psicologica sul posto di lavoro abbiamo già attraversato molti argomenti e cerca 40 settimane insieme discorrendo di tanti temi che sono andati dalla comprensione del fenomeno mobbing alla valutazione all'analisi della cultura aziendale a quella dei soggetti che compiono mobbing eccetera insomma mi sembra che abbiamo attraversato davvero molti temi la parte conclusiva di questa serie poi abbiamo visto il video precedente rincentrato su una serie di strumenti anche pratici per superare la dimensione traumatica e post traumatica del mobbing arriviamo perciò a questa puntata che inaugura proprio la sezione finale e che chiameremo evitare che si ripeta provando a dare qualche spunto di riflessione che appunto aiuti ad evitare che certi fenomeni siano il meno diffusi possibile chi ha seguito questa serie dall'inizio si ricorderà che in una precedente puntata una delle prime ponevo l'accento sul superamento del termine mobbing per mettere un migliore accento sulla soggettiva esperienza del lavoratore oltre al fatto che la ricerca più seria ha scardinato certe categorizzazioni del mobbing comunque vigenti ovvero è mobbing se l'azienda è consapevole del fenomeno quindi il mobbing è un fenomeno strumentale per buttare fuori il lavoratore dell'azienda se no è bullismo lavorativo io ho proposto il superamento del termine mobbing non perché esso non fosse importante ma proprio per il motivo opposto perché la sua importanza già di per sé sensibile non surclassasse l'importanza del soggetto che con il termine si vuole vestire nel coprendosi definitivamente quindi quest'ultima parte della serie video che ho appena detto che potremmo titolare evitare che si ripeta possiamo anche chiamarla la persona prima di tutto prima di tutto però la persona deve utilizzare più correttamente il linguaggio con cui comunica le proprie idee se no le parole con il potere quasi magico che hanno di plasmare la realtà che ci circonda possono portarli in territori che mai avrebbero voluto visitare questo non deve sorprendere è lo stesso principio che governa la possibilità che le parole possono farci stare meglio affinché certe cose non si ripetano o affinché non si presentino affatto ebbene tenere a mente alcuni fattori che passano da una maggior consapevolezza verbale fino a giungere ad una più ampia e positiva ecologia della mente bene allora vediamo di analizzare queste frasi queste idee patogene che non sembra ma hanno un loro peso nel determinare il fenomeno hobbing o il bullismo lavorativo diciamo la prima frase che è la la tua azienda non è tua allora mi sono accorto nei molteplici colloqui svolti che tanti troppi lavoratori parlando dell'azienda in cui lavorano e degli spazi ad essa connessi usano l'aggettivo possessivo mia la mia azienda il mio ufficio la mia scrivania eccetera l'avrete sicuramente sentita anche voi queste semplici quotidiane frase con tutte probabilità le avete anche dette anch'io a mio tempo ho fatto la stessa cosa il baserà basilare problema in una parola così piccola come un aggettivo quale mia mio eccetera e rispettivi plurali è che la portata del loro senso è enorme e fondamentalmente ingannevole perché di fatto nulla possediamo che tutto abbiamo in prestito ma al di là delle riflessioni come dire filosofiche dare del mia ad un'azienda che non è in effetti vostra instillerà nella vostra mente piano e progressivamente l'idea che in effetti quel luogo sia vostro mentre in realtà secondo il principio che le cose che pensiamo di possedere alla fine ci possiedono voi diventate progressivamente di proprietà dell'azienda quando intendo dire che la mia azienda porta il dipendente a credere che l'azienda sia sua non ritengo ovviamente che quello che il lavoratore dopo anni di lavoro impazzisca e si reputi il presidente o il fondatore significa però che dopo anni si sentirà parte di una cosa di un rapporto che si è personalmente impegnato a costruire ed espandere innescando mentalmente un idea un ideale diritto di non dico usucapione ma legame un possesso e legame che le aziende abbiano tutto l'interesse a far sentire parte di una cosa unica proprio dipendenti è evidente e a tal fine è perfetto che essi utilizzano utilizzano l'aggettivo mia perché percepire come propria l'azienda altrui significherà avere dei dipendenti più motivati e sicuramente non inclini a danneggiare o trascurare ciò che viene percepito come proprio tuttavia tuttavia l'azienda non è del dipendente e se l'azienda non avrà più necessità del dipendente non tarderà a mostrargli e dimostrargli il concetto nei modi più schietti possibili rispettate l'azienda e il vostro lavoro quest'ultimo il lavoro sì che è davvero vostro poiché in entrambe le cose risiede un grande valore ma siate sempre consapevoli di ciò che davvero vi appartiene se volete evitare brutte sorprese e soprattutto siete sempre consapevoli del potere del linguaggio sul lavoro come altrove la frase corretta quindi non è la mia azienda ma l'azienda alla quale vendo il mio lavoro o in sintesi l'azienda nella quale lavoro ecco avrete capito a questo punto che lavoro faremo nei prossimi video un lavoro psicologico lessicale che aiuta ad evitare che nella mente si costruiscono alcune idee patogene proseguiremo nella prossima puntata alla prossima